Dunque dopo Stalingrado abbiamo visto che inizia la controffensiva dell'armata rossa, essa continuerà nell'estate del 43 e proseguirà per tutto il 44. Nell'estate del 44 l'Unione Sovietica ha ormai ricacciato oltre i suoi confini l'esercito del Terzo Reich ed è entrata in Romania, sta per entrare in Polonia dove poi giungerà all'inizio del 45. A gennaio l'armata rossa libera il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau il 27 gennaio del 1945. Dunque dopo Stalingrado potremmo dire che inizia la controffensiva sovietica sul fronte meridionale ucraino, la grande marcia cosiddetta offensiva nel fango del maresciallo Konev, i successi di un altro grande maresciallo, come dire, è diventato mitico, la cui figura è diventata mitica per la storia dell'Unione Sovietica, il maresciallo Zhukov. Essi colgono grandi vittorie e l'Unione Sovietica poteva contare anche su una superiorità di uomini e mezzi. Nel 44 peraltro a giugno era iniziata l'operazione Overlord, lo sbarco nella Francia settentrionale, lo sbarco in Normandia che aveva aperto appunto un nuovo importantissimo fronte nel nord della Francia, con operazioni guidate da quello che poi sarà il futuro presidente degli Stati Uniti d'America, Dwight Eisenhower, il generale Eisenhower, che nel mentre aveva lasciato il comando delle operazioni nell'area del Mediterraneo e quindi anche in Italia ad altri generali e aveva preso la guida delle operazioni nel nord della Francia. Quindi i tedeschi nazisti devono spostare uomini sul fronte occidentale e subiscono così la controoffensiva sovietica. E però dobbiamo un attimo soffermarci sul 43 perché alla fine del 42 era iniziata nel contesto dell'Europa occupata dai nazisti la pianificazione della cosiddetta soluzione finale del problema ebraico, quello che i nazisti definivano appunto il problema ebraico, ovvero la soluzione finale. Veniva pianificata la Shoah, la grande catastrofe, il grande esterminio che porterà alla uccisione di oltre 15 milioni di ebrei europei residenti nei territori occupati dalla Wehrmacht, dall'SS, dalle truppe del Terzo Reich, compresi ebrei italiani, compresi i nostri connazionali, mandati a morire nei campi di sterminio dai nazisti e dai fascisti della Repubblica Sociale Italiana. Saranno oltre 6 mila i cittadini italiani che non torneranno più dai campi di sterminio, caricati in vagoni smistati nei campi di transito come fossoli vicino Carpi e poi mandati gli italiani quasi tutti, gli ebrei italiani quasi tutti ad Auschwitz-Birkenau, il luogo in cui si dirigevano i vagoni piombati dall'Italia che attraversavano poi mezzo Europa per arrivare ad Auschwitz-Birkenau. Era iniziata, dicevo, nel 42, perché? Perché nel 42 c'è la conferenza di Van Zee, Van Zee che cos'è? È un soborgo di Berlino dove aveva sede, oggi si può visitare, un bellissimo museo e centro di documentazione, aveva sede uno, diciamo, dove era, diciamo, collocata una delle sedi dell'SS, era una villa che era appunto una sede, all'interno c'erano degli uffici, era un centro strategico dell'SS e lì a Van Zee c'è una grande conferenza, la conferenza di Van Zee, una riunione segreta dei vertici dell'SS, a questa riunione partecipano figure come Adolf Heichmann, ad esempio, che sarà reso celebre da Hannah Arendt che racconterà il processo proprio ad Adolf Heichmann, avvenuto negli anni Sessanta in Israele, dopo che Heichmann, fuggito in Argentina alla fine della guerra, quindi era riuscito a farla franca, a non essere portato sul banco degli imputati di Nuremberg, fuggito in Argentina attraverso l'organizzazione segreta che i nazisti avevano messo a punto, immaginando già la necessità di darsi alla fuga dopo la guerra, scovato in Argentina dai servizi segreti israeliani, Adolf Heichmann sarà processato e condannato a morte in Israele nei primi anni Sessanta e Hannah Arendt, la grande filosofa e in questo caso reporter del New Yorker, di un giornale appunto statunitense, sarà appunto inviata e racconterà il processo Heichmann e ne verrà fuori un libro molto celebre che ha come titolo La banalità del male, che vi invito a leggere. Bene, alla conferenza di Van Zee si decide la creazione di centri appositi di sterminio, alcuni dovevano essere solo centri di sterminio, altri avrebbero affiancato lager già esistenti, come Auschwitz ad esempio, altri sarebbero stati sia campi di concentramento che di sterminio, ma comunque l'idea era quella di strutturare in modo diverso, quello sterminio già in atto in altre forme nei confronti, quello sterminio già in atto in altre forme contro la popolazione ebraica. Perché dico sterminio già in atto in altre forme? Perché già dall'inizio del conflitto, segnatamente dal 38-39 in avanti, già dopo la notte dei cristalli, ma soprattutto dopo l'inizio della guerra contro l'URSS nel 1941, i nazisti con l'SS e attraverso quelle che ho appunto già descritto come le Einsatzgruppen, cioè i reparti speciali dell'SS, avevano già operato nelle retrovie nel territorio, potremmo dire, occupato dalla Wehrmacht dell'Unione Sovietica, avevano già agito in quel territorio, appunto occupato dalla Wehrmacht, con modalità terroristiche stragiste nei confronti degli ebrei e della popolazione civile. Nell'Unione Sovietica occupata dai nazisti vi è una caccia all'ebreo sistematica che termina sempre con fucilazioni, esecuzioni di massa e cadaveri gettati in fosse comuni. Sono centinaia di migliaia, milioni, alla fine, le vittime di questa carneficina che avveniva attraverso fucilazioni e cadaveri poi occultati in fosse comuni. Delle modalità che sul lungo periodo cominciarono a diventare insostenibili, se ne accorse anche il capo dell'SS, il Reichführer SS Himmler, che doveva costantemente prendere atto di rapporti che raccontavano di episodi di cedimento dei soldati semplici e dei membri dell'SS, delle Einsatzgruppen, chiamati a queste operazioni, diciamo a svolgere queste operazioni terroristiche di stragismo nei confronti di bambini, donne, vecchi quotidianamente massacrati dall'SS durante l'occupazione dell'Unione Sovietica. I soldati spesso cedevano dal punto di vista psicofisico, non erano in grado di sopportare sul lungo periodo questi ritmi e di osservare, di partecipare a queste, a quelle situazioni raccapriccianti. Molti abusavano di sostanze stupefacenti, molti si davano all'alcolismo per reggere la situazione e sopportare la vista di quell'orrore, molti altri si suicidarono, altri ebbero, come dire, si produssero in manifestazioni di insubordinazione, insomma le cose non procedevano in modo lineare e si decide di pianificare in modo scientifico lo sterminio. Per questo si procede alla costruzione dei centri di sterminio, dove poi avverrà diciamo la Shoah nella sua, come potremmo dire, totalità. I centri di sterminio dovevano razionalizzare, rendere diciamo più regolare lo sterminio e soprattutto avevano una funzione anche, come possiamo dire, organizzativa e importante. Dovevano distaccare la vittima dal carnetice, allontanare la vittima dal carnetice. Nel campo di sterminio gestito dall'SS, perché è data all'SS la gestione dei campi di sterminio, a testimonianza del fatto che i nazisti consideravano l'SS un corpo d'elite che avrebbe dovuto risolvere una delle questioni cruciali del nazionalsocialismo, la questione ebraica che era stata l'ossessione insieme all'anticomunismo, all'antibuscelismo, fin dalle origini del nazismo. E dunque all'SS viene data in gestione, viene affidata la gestione dei campi di sterminio. Dicevo, l'allontanamento della vittima dal carnetice. Vittime e carnetice non erano in contatto, a parte la selezione che avveniva all'arrivo dei convogli nei campi di sterminio, fra coloro che venivano immediatamente mandati a morte nelle camere a gas e coloro che erano ritenuti abili al lavoro, lavoro che veniva sfruttato anche dagli industriali, dai grandi capitalisti, che utilizzavano questa mano d'opera praticamente a costo zero. Aveva quindi anche una funzione economica il lager. Non è vero che non ebbe una funzione economica, ma solo una funzione terroristica. Ebbe anche una funzione economica, ma soprattutto di sterminio. A parte il contatto che veniva fra le SS che dividevano le vittime dagli abili al lavoro all'arrivo, a parte quel contatto, poi i contatti erano molto scarsi. E soprattutto nel momento, perché i reparti venivano spesso gestiti dagli stessi prigionieri, molti di questi erano corrotti, pagati, collaborazionisti dei nazisti. Addirittura alcuni di questi avevano il compito agghiacciante di raccogliere, anzi era forse il compito più atroce e più importante dal punto di vista della riorganizzazione di cui vi ho detto. I Sonderkommando, gruppi di ebrei prigionieri dei campi che avevano come compito, quello di raccogliere i cadaveri nelle camere a gas e di portarli ai crematori. Non lo facevano i tedeschi, non lo facevano i nazisti, non lo facevano le SS, lo facevano gli ebrei. Anzi, era una, come dire, strategia ideologica e psicologica, direi quasi. Mettere contro, mettere gli uni contro gli altri, gli stessi prigionieri, portarli alla, come dire, allogoramento, allogoramento delle relazioni fra di loro, ridurli allo stato bestiale, ridurli allo stato di belve, incattivirli e renderli così, come possiamo dire, ostili gli uni contro gli altri, quasi a voler, creando questa situazione, quasi a voler poi produrre, produrre la prova delle loro tesi, le tesi dell'ebreo subumano, la tesi che li aveva portati a quell'orrore, cioè l'ebreo come appartenente ad una razza bastarda di subumani. Creavano questa situazione di cattività, mettevano i prigionieri gli uni contro gli altri, creavano conflittualità, molto spesso questa conflittualità scaturiva, generava violenza, si trasformava in violenza e essi potevano così additare queste situazioni come la prova della correttezza delle loro agghiaccianti, raccapriccianti, tesi razziste. Era quindi anche un modo per creare lì, quasi in laboratorio, il tipo umano ebreo che essi pretendevano, diciamo, di, pretendevano di, volevano mostrare, volevano, volevano, di cui essi volevano sostenere l'esistenza. Creare, quasi in laboratorio, il tipo umano ebreo che corrispondeva alla loro rappresentazione dell'ebreo. C'è anche quindi questa finalità, potremmo dire, ideologica e psicologica nella costruzione del campo del lager e in particolare del campo di sterminio. Quindi alcuni lager diventano centri di sterminio, altri restano lager e centri di sterminio, ma ci sono anche solo centri di sterminio, soprattutto in Polonia. Pensate a Treblinka, pensate a Kelno, pensate a Sobibor, sono luoghi solo di sterminio. Insieme poi a Auschwitz-Birkenau, che come sapete, come sanno i ragazzi che lo hanno visitato, fu sia lager sia centro di sterminio. Nel lager, dicevo, non c'è dunque contatto. Si va al gas, dove viene usato un nuovo veleno, lo Zyklon B, un acido cianuro di fatto, che veniva gettato in queste grandi camere, le cui esalazioni portavano in 15 minuti alla morte tutti coloro che erano entrati in quelle che venivano chiamate docce, ma che erano camere a gas. Lo Zyklon B sostituì il monossido di carbonio, prima enormi motori sparavano monossido di carbonio in queste camere. Era meno funzionale e più costoso. Lo Zyklon B riduce i costi di questa fabbrica della morte. I cadaveri nelle camere a gas ogni giorno avvenivano esecuzioni in serie. All'inizio venivano sistemati in fosse comuni, infatti alcune fosse comuni furono scoperte, perché non tutte furono distrutte dalla fuga dei nazisti che avviene già per alcuni campi, per alcuni lager alla fine del 44, all'inizio del 45. Di fatto iniziano, pensate che Auschwitz appunto viene liberato il 27 gennaio 45, negli ultimi mesi della guerra i campi sono stati liberati, quando venivano liberati iniziavano le marce della morte, non venivano liberati semplicemente con la smobilizzazione e la partenza dei nazisti. I nazisti sadici, avendo in odio assoluto nei confronti degli ebrei, costringevano gli ebrei sopravvissuti, ancora presenti in quei luoghi, a sostenere marce della morte di centinaia di chilometri, che questi poverini sostenevano a piedi, morendo ovviamente in grande numero durante queste marce forzate, che erano poi marce verso il nulla, perché i nazisti si stavano ritirando, non sapendo neppure cosa avrebbero trovato una volta tornati in Germania, infatti troveranno una Germania schiacciata da un lato dagli alleati angloamericani, dall'altro lato inseguiti dall'armata rossa, e questi poveracci erano costretti alle marce della morte, che erano l'atto finale, diciamo, dopo la liberazione dei lager. I lager venivano fatti saltare in aria, alle prove eliminate, i nazisti non erano stupidi e sapevano cosa avrebbe comportato, cosa avrebbe comportato la scoperta dei loro climi. Fanno saltare in aria tutto, fanno saltare in aria i forni, fanno saltare in aria le fosse comuni, e proprio per non, come dire, lasciare fosse comuni troppo grandi, e proprio per gestire meglio questa fase, potremmo dire così, dopo le esecuzioni, viene creato il crematorio. Il crematorio serviva a eliminare i cadaveri, praticamente, a trasformarli in polvere. Questa è la drammatica funzione del forno crematorio. Un forno crematorio esiste, fu costruito anche in Italia. Non pensiate che la storia dello sterminio riguardi solo i luoghi, diciamo, dell'Europa orientale occupata o della Germania nazista. E guarda anche l'Italia, nella risiera di San Sabba, che era un lager costruito dai nazisti, dai nazifascisti a Trieste, controllato dall'SS, dai nazisti che in quell'area, come sapete, il litorale Adriatico aveva il controllo diretto del territorio, avendo sottratto quella zona ai loro servi della Repubblica Sociale Italiana, Trieste era troppo importante per essere lasciata alla Repubblica Sociale, alla Repubblica di Salò, i nazisti la controllano direttamente. Lì costruiscono l'unico lager con forno crematorio in Italia, la risiera di San Sabba, dove saranno bruciati centinaia di ebrei, di oppositori politici, di antifascisti, di partigiani, catturati prima e sediziati poi dalle SS, anche in questo caso con la collaborazione dei collaborazionisti della Repubblica Sociale italiana. Quindi il dramma della Shoah è il risultato di un ripensamento dello sterminio che avviene dopo la conferenza di Van Zee che porta alla creazione dei centri di sterminio. I più importanti di questi e solo centri di sterminio in Polonia, ripetiamo, Treblinka, Kelmo, Sobibor, Auschwitz, Birkenau, sono i luoghi della morte, sono i luoghi della morte dove avverrà la più grande catastrofe della storia del Novecento. Da tutti i territori dell'Europa occupata, l'Ungheria, la Bohemia e la Moravia, la Polonia stessa, ovviamente la Germania, l'Austria, l'Italia, i Balcani, verranno l'Europa occidentale, la Francia, dalla Repubblica di Vichy, dalla Francia occupata, dall'Olanda, Anna Frank, che verrà deportata in un campo di sterminio, di concentramento, di sterminio tedesco, dal Belgio, centinaia di treni piombati partono per i centri di sterminio, carri della morte, carichi di vittime, che vengono schedate, raccolte in elenchi, che poi le SS e i collaborazionisti gestiscono come una sorta di contabilità della morte. Tanto che Heichmann, che fu uno dei più solerti organizzatori, come dire, dello sterminio, fu chiamato il contabile della morte. Questi elenchi venivano compilati e da questi elenchi si partiva, si muoveva per la raccolta, il rastrellamento delle famiglie ebraiche che poi venivano arrestate e deportate. Negli anni 42-44 vi è anche un altro fenomeno nell'Europa occupata, pensate soprattutto alla Polonia, la creazione dei grandi ghetti, prima della deportazione in molte città polacche, penso a Varsavia, il ghetto di Varsavia, penso a Lodz, sempre in Polonia, vengono creati grandi quartieri nei quali vengono tenuti quasi, come dire, come una sorta di prigione a cielo aperto, gli ebrei di quella città, dei quartieri prigione, dai quali gli ebrei non potevano muoversi, circondati da muri filo spinato. La fase che precede la deportazione e lo sterminio è quella della ghettizzazione, anche perché molto spesso i ghettizzati erano poi trattati come mano d'opera schiavistica dai nazisti. E a Varsavia, nel ghetto di Varsavia, vi è anche un grande episodio di resistenza, l'organizzazione politica dei combattenti del ghetto di Varsavia darà, diciamo, grande prova di sé, organizzandosi in un gruppo combattente di resistenza e impegnando i nazisti in una battaglia casa per casa fino, ahimè, all'annientamento e poi alla deportazione di quasi tutti gli ebrei di quella città. Quindi ci sono anche grandi episodi di resistenza, come appunto la famosa resistenza del ghetto di Varsavia. È straordinaria questa storia, l'organizzazione ebraica di combattimento, lo Zob, che era guidato da una figura mitica, Mordecai Agnielewicz, che appunto nel 42 impegnò impegnò i nazisti in una prova molto, diciamo, molto importante. Questo testimonia anche, diciamo, la capacità di resistenza e le varie resistenze che avvengono in Europa. Questa è una resistenza spesso dimenticata, quella dell'organizzazione ebraica di combattimento del ghetto di Varsavia. E la liquidazione del ghetto avviene poi nell'aprile del 43, tra il 42 e il 43, vi è una continua resistenza, soprattutto nei confronti dei tentativi di deportare poi la popolazione verso i campi di sterminio che inizia, come dire, come progetto nel gennaio del 43, iniziano i tedeschi una grande ondata di deportazioni alla quale lo Zob, l'organizzazione ebraica di combattimento, prova a resistere. Quindi alla Shoah e alla barbarie dello sterminio dobbiamo, oltre a questo, dobbiamo anche ricordare la ghettizzazione e la vicenda incredibile della distruzione, della liquidazione con centinaia di migliaia di vittime del ghetto di Varsavia e l'eroica prova della resistenza ebraica del ghetto di Varsavia.